Bene ragazzi, Fulci Fan Center, l'altra volta avevo visto l'inizio di questo livello e come già vi dicevo a suo tempo Azione Arcade è il centro di frattimento Fulci, Fulci è ovviamente un riferimento, un tributo a Lucio Fulci che è un grandissimo regista italiano di film horror, thriller, drammatici eccetera eccetera ha fatto moltissimi film di zombie e di demoni per cui sicuramente non può essere che un riferimento a lui il nome di questo centro ho cambiato pad, spero che questo non si disconnetta come il precedente perché era quanto fastidiosa come cosa per cui speriamo bene, capitolo 4 Oh, I'm sorry l'invalidità adesso devo ricordarmi poi i comandi, è perché ha passato al minimo una settimana dall'ultima volta che stupidi ho fatto blooded in sottofondo, non la conosco quella canzone lì, non la conosco un edificio a forma di sala giochi di cabinato io andrò in sottofondo in sottofondo, ok? padre, tu fai around e fai in da parte io faccio come un decoy, attraverso la visione dei zombie a me mentre tu fai up to the roof where Rosalind should be Juliette, tu ti fai solo un decoy padre, cosa è vero? a tactical genius a tactical genius tu fai avuto un decoy tu fai avuto un decoy tu fai avuto un decoy stop sucking up, son e non credo che ho scoperto la cosa di tongue tu fai meglio guardare cosa facciano con la mia piccola quando sei in scena sì, signor, ok signor io credo che tu davvero piaciuto ok pronta Jill dai su Juliette volevo dire sono sbagliato con la protagonista di Resident Evil Juliette Starling non lo so, era solo pensiero devo capire come funziona il Nick Shoot però va bene dai sì devo dire che la cosa che invecchia di più la 360 rispetto alle generazioni nuove è proprio la velocità di caricamento quella sì che appesantisce il tutto allora vediamo un po' il nascondiglio guardiamo un attimo le telefonate sono qua hai visto papà? hey Juliette it's mom have you seen your father? I don't want to be a worry but uh he was supposed to call an hour ago and hasn't ok a posto attacco roulette lancia Nick lancia Nick per stornire gli zombie va bene c'era una super mossa che facevo figurati se me ne ricordo cavolo figurati se me ne ricordo ah va bene dai il pestone ok è buono quel maledetto fard che purtroppo mi ha fregato va bene dai ma ok si rompono questi? bello però no oh qua un po' di monete perfetto magari se le becchiamo le piante ok perfetto vediamo i tavoli da biliardo neanche questi si rompono ah peccato i tavolini perfetto via 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 qui cosa abbiamo? del sangue che cazzarola è questa qua una torta sanguinosa bah non facciamo finta di niente dai questi qua sono veramente rincoglioniti davanti ai videogiochi eh letteralmente zombie a causa dei videogiochi tipo va bene quanti lolly pop abbiamo? eh ma sapete che manco mi ricordo porca miseria preso va bene dai ok mazza che pacco due di tre perfetto agile questo qua eh proviamo ad aiutarlo dai poverina oi eh vabbè capito ma se gli lanciano le molotov povero disgraziato lasciatemi lo stare sì perfetto sei a posto sei a posto tu sì dai raccomando non morire male andiamo su sono indeciso su cosa giocare stasera onestamente non lo so non lo so non lo so cosa giochiamo stasera se continuare se continuare the mortuary assistant per la terza volta o portare qualcos'altro di diverso oppure una delle serie in corso boh ronda funky ciao vasco finiamo uno di quelli in corso dici il problema è sempre quello però oddio qua un pacman un po' più diabolico tipo uops start posto che interessano al pubblico eh e se le finissimo su youtube invece trova tutte le chiavi nel labirinto le stelle sono utili per eliminare allora vediamo un po' devo trovare otto chiavi quindi ma si rompono questi no quindi in pratica devo evitare il nemico e nel frattempo raccogliere le chiavi se non ho capito male che roba stranissima qua è bloccato va bene via 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 perché quello lì in basso a destra è sicuramente il nemico pensa a te un tributo a pacman hanno messo va bene dai io chiavi non ne vedo però qua come lo mettiamo qua sopra forse no qua c'è un lollipop ok ops ah devi vedere Vasco quello che piace di più a te cazzo e qua via 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 ma sono più veloci di Messi quasi usiamo un lollipop meglio perfetto forse potevo usarlo io per ucciderli non lo so onestamente vabbè troppo tardi self delusion non era piaciuto non più di tanto mi pare non più di tanto non più di tanto più che altro è un po' fine a se stesso come gioco ecco carino si eh però boh testare Miles wireless possiamo uscire si perfetto goal via ma in realtà simpatico come livello però nulla di particolare però ha detto next level quindi mi sa che mi sa che ci sarà un'altra sezione più difficile ma adesso vediamo un attimo carina come idea comunque a shopping break vediamo negozio aperto allora quante monete ho 184 abilità fighissime vite e potenziamenti vediamo cosa abbiamo qui allora lecca lecca no biglietto nick medaglie platino no proiettili laser no crap donkey alla frutta non possiamo scarpe da corsa livello 2 aumentano la capacità di avvicinamento di juliet ecco questa cosa qua è interessante juliet recupera più velocemente se viene messa a terra ok fagiolini magici niente eeeh queste cose qua possiamo prendere eventualmente la capacità di avvicinamento la portata cosa dite ah si dai aggiudicata aumentano la distanza percorsa per eseguire una botta pom pom perfetto andiamo indietro abilità fighissime scuoti nick attacco potente finale comunque eventualmente vasco scrivimi dopo che parliamo un attimo di quelle cose lì insomma qua in live faccio fatica diciamo eeeh motosega trivella schiacciata sferazzata motosega basta qua mi sa che non posso prendere altro collezione d'arte immagini super segrete ah i bozzetti di juliet già già con le medaglie mhm cordelia 1 rosalind 1 prologo sarebbe molto bello prendere questi bozzetti qua però mi sa che è tipo una cosa da endgame rimettevano musica perché altrimenti qua me la censuravano a posto però però niente dai a posto così dai ah questa qua è la mossa che piaceva a me il sega gambe tipo che purtroppo non scelga sempre però ok ok ciao ciao vasco ciao ah bastarda e questo ah qua ci devo mettere la testa di nick perfetto datemi un secondo allora vediamo qua rompiamo un po' di cose perfetto un lecca lecca vediamo se riusciamo a prenderlo eppure mi sembra bloccato tipo ah forse sapete cosa verrà sbloccato da nick qua credo o almeno spero questi non danno monete è vero il cavolino però si già 130 monete ho accumulato però mica male eh no ho detto semplicemente una cazzata il lecca lecca era qua semplicemente non l'ho visto prima vai è orribile vedere nick con chatto così però va bene dai se serve serve ah adesso ci fa saltare di là perfetto troppo carina per morire no ho sbagliato cazzo ti voto la special che cretino che sono stato il balletto è per incutere timore credo no non è vero solo perché è un giochino stupido che per realtà tanto stupido non è più che altro è trash ecco grazie grazie dammi monete grazie mille in salvo due di tre perfetto ciao Deone allora ok proiettili vedo qua 19 colpio 31 adesso perfetto il gioco anime con gli zombie no 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 non è schoolgirl zombie hunter questa è un'altra cosa questa è un'altra cosa ok riproviamo porca Eva questo poliziotto bastardo che fa un sacco di danno forse potrei evitare i proiettili facendo B non lo so con la schivata proviamo dai dai merdoso sì credo di sì effettivamente è fattibile così boh ora si spiega tutto perfetto allora di qua lasciamo stare è presto è presto per giudicare ragazzi è presto per giudicare avete mai giocato a Nier Automata o conoscete Nier Automata per esempio aspetti lo scontro da due anni quindi non l'hai mai giocato è per quello che non capisci questo gioco qua diciamo allora questo gioco qua ha tanti minigiochi al suo interno un po' come Nier Automata voi siete entrati in una fase dove c'è un minigioco ma il gioco non è così non è così il minigioco cioè come giudicare Nier Automata e dire che è un platform a scorrimento laterale perché sei entrato nella fase in cui è un platform a scorrimento laterale perché ci sono quelle fasi su Nier Automata ma non è così insomma non è così allora su mia replicante devo ancora giocarlo io ho giocato ad Automata su sperando che quel celtrone di un pollizzato non ci uccida sto giro vediamo che pad mi sono preso uno per la 360 che ho trovato a casa dei miei allora su qua ma allora cosa ho sbagliato non di qua bensì no 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 allora ho sbagliato porte forse è qua a sinistra semplicemente no ah ok ora si spiega tutto perfetto andiamo giù qua c'è il poliziotto stronzo vero sì ma porca di quella vacca ah quanto male che mi fa con tre colpi di pistola infame va bene dai spero sia finito sto livello maledetto perché mi ha rotto le palle dove porta questo acqua che stupido potevo usare questa loro per andargli alle spalle eh vabbè too late oh cazzo come lo stiamo segando perfetto c'è un crossover di videogiochi qua che non si capisce bene va bene il monitor 75 rtps dell'lg dipende dipende ce ne sono tanti ecco e qua sì ma sono troppo distante sti zombie bastardi non gli faccio niente io ma dai che spreco ah ancora oh cazzo merda eh vabbè sì e poi prima ho usato lo special per sbaglio porca miseria non l'avessi mai fatto cavolo adesso metto cosa rilecca lecca ai 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 non l'avessi mai non l'avessi mai No, 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 no. Quanto resistenti sono sti bastardi, oh. Vuoi stilacciare banconote? Non molotov. Oh, cazzo. Attenzione agli zombie con lo stereo. Fanno gasare quelli nelle vicinanze. Perfetto, più o meno. E quindi? Usiamo lo special, dai, vaffanculo. Che è? Ancora, 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 dai. Non fatemi spaccare lo special così. Va bene, va bene. Ciao, Blank. Ready? Un altro minicioco stupido, vediamo. I giovani d'oggi. Allora. E adesso? Quindi in pratica a questo livello sono tutti i minigiochi, eh? Tutti i minigiochi. No, ma c'è Skrillex. Cazzo. Skrillex è sottofondo che bello. Sì, là. Attenzione ai blocchi bianchi, eh. Però è una versione tagliata ed editata per la canzone di Skrillex, eh. Non è quella originale. Ma, asparto. Ma, asparto. Ok. Non muore, eh. Perfetto Cazzo Perfetto Posso uscire? Bene Uccidiamoli poi andiamo Ah no a posto Cazzo non ho più vita eh No e quindi come ci arrivo io lì a... Ah ok Faccio allarme dai Via Te l'ha censurato non lo so il perché Non ne ho idea Vediamo qua il telefono Hai tasti distrutti sto padre secondo me Va bene dai È molto vissuto Evviva i gay Sentiamo Bu Va bene dai ok Simpatica Vedete faccio fatica anche a rialzarmi per esempio Avendo il testo B che funziona di merda Cosa mi ha tramuto adesso Cambia tasto non si può Non si può Non c'è il remapping dei tasti in questi giochi purtroppo Mamma mia Cioè Se avessi potuto L'avrei comprato nuovo Il pad Però Non è facile trovare il pad della 360 nuova Purtroppo Giustamente Non so il vecchio Maio Vecchietta maledetta Che mi ucciderà È sempre lei che mi rompe le palle Ho un lecca lecca Porca vacca Tutta naccia Ma poi fai degli attacchi o picco e la merdaccia lì Una vecchia bastarda Va che roba Ste cazzo di rincorse stupide Eppure il marito eh Ti venisse un colpo porca Vacca Ti mancano 3000 Possibile che manchi così poco Beh vabbè Utile sapersi Dai Ottimo Allora No ma come Pure No vabbè Allora ragazzi Allora non ci siamo Potrei usare di più effettivamente i colpi Adesso che ci penso Che lotta Mamma mia È una lotta con il pad Non con il gioco eh Con il pad Porca vacca Pessima sta cosa Pessima sta cosa No ma come Ma uffa Adesso il pad Che si disconnette sempre Avevo in mente Grandi progetti Per questa cosa Ma se funziona così Va bene dai Spara Eh ok Si è ben fatta Presumo di si Boh No no Merda È finita malissimo È finita malissimo Sta cosa Eh niente Mi prenderò Un pad cablato Allora dai C'è poco da fare Se si disconnette Anche questo Vabbè Dai spariamogli Bene 539 monete Sono tantissime Pseudo universali Si ma fanno tutti cagare Purtroppo Cioè Essendo una console vecchia No 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 Non voleva andare lì Cazzo Voleva andare al negozio là Ma porca puttana Vabbè dai Non importa Essendo una console vecchia Sono tutte cose Cineserie Ecco Di qualità Infima Ecco Mamma mia Mamma mia No Non penso di mettere Free to play Onestamente Non penso di mettere Free to play Sai I free to play Diciamo che non sono Il mio genere Ci stavo pensando E dopo ho detto No Lasciamo stare Dai La mucca Mi ha trapassato Perfetto No Le ragioni Dopo mi dici La tua versione Secondo me No Non credo Però Può essere Può essere Oh qua Vediamo se riusciamo a morire Per la 47esima volta Ragazzi La sto faccia di culo Incredibile Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Oddio Mamma mia Quanti ostacoli Ci sono qua Cioè Non so Basta Non voglio più morire Non voglio più morire Basta Per favore Lasciatemi stare Cazzarola Questo qua Ha aumentato La cadenza Di fuoco Porca Oddio Oddio Mmm Beh dai Ci abbiamo messo Solo 40 minuti Tipo Dovrò essere Vero Della stream Della live Ma dopo mi spieghi Questa cosa qua Perché non puoi comprare I giochi Bisogna che mi spieghi Cioè Ti sei preso Il computer Per non giocare I giochi Comprati A meno che non li scarichi tutti Allora è nato un paio di maniche Non si può dire Però questa cosa Lasciamo stare Allora Beh Ah no Niente Mi sa che Boh A meno che Ah no Sono stupido io Basta fare così A posto Negozio aperto Vediamo Abilità Fighissime Vediamo Squat Nick Attacco potente finale Che costa tanto Motosega paradiso Attacco pesante Che unisce Attacchi pompon Attacco con Affondo con salto Anzi Presa zombie Sederata Colpisci gli zombie Con le fonde schiene Di Juliet Ok buono Schiacciata Motosega Trivella Combo pompon Che l'ho già comprata Però Oppure qua cosa abbiamo Invece Avete potenziamenti Proiettili laser Ok Aumenta per sempre La vita di Juliet Del 10% Olio aromatico 510 Cavolo È tantissimo Cazzarola No io direi Che è meglio Comprare la vita Ecco Benissimo Tagliolini Chow main Vai Involtino Di polpo Basta Non ho più Lecca lecco Biglietto di nick Questo qua sarebbe interessante Effettivamente Per le boss fight Più che altro Abilità fighissime Vediamo qua Cosa possiamo comprare Con 84 Probabilmente uno sputo E infatti Così è stato Ok andiamo avanti Andiamo di qua Andiamo dall'altra E infatti Non va Non va Mamma mia Che fatica No il pad Mi sa che riposerà Per un bel po' Purtroppo Per un bel po' No no Perché veramente Mi sta togliendo la vita Cioè se Se il pad Mi deve far arrabbiare Capito O innervosire No Sto punto no Non è sua mamma Comunque troverò Una soluzione Dai Troverò una soluzione Scusate Eh vabbè Dopo scrivo anche Blank Che mi sa che tipo Gli ho risposto nervosamente Prima per sbaglio E viva i gay L'abbiamo già sentita Ok è stranissimo Sentiamo Sentiamo Questa qua Perché tagliando Con l'editing Non si sentiva La cosa di prima Sicuramente Ok Dopo Deone Scrivimi Che ti mando Dei link Va Fidati di me Dei link buoni Ma G2A È rumeno O possiamo entrare Giusto Perfetto Ok ok Va bene Affare fatto Ciao Must Per fortuna Che sei portato Sei venuto a portarmi Un po' di allegria Dai No non è vero Cioè si è vero Ma intendo È il pad Che mi sta facendo Inbestialire What the fuck Interessante You're the one From the phone Give me back My sister What's the matter Baby Didn't you like Our phone S-E-X-X-X Comunque ha detto testualmente Smettere di parlare Come Stephen Hawking Esatto Deone Esatto È un handicap Il testo B Che non funziona Funk zombie Josie Bene dai Perfetto Mi sa che questo qua È il boss Sapete Sì Poi fai Uno famoso Streamer E tagli Davvero Cioè tu dici Che c'è uno Famoso Che bestemme In live E dopo su youtube Le toglie Questo vuoi dire No non lo sapevo Ma baffanchiudo No ma io No ma io volevo sapere Chi era però Wow Quanta danno gli abbiamo fatto Avete visto È incredibile Mamma mia Inizia con la Q Ah ok Questa leale No Perlomeno A me piace lui Perché io conosco lui Con la Q Dopo non so Bastardo Infamone Ok ok Vabbè Vabbè Io purtroppo ho un deficit Sono veneto Sono Per cui Lui è toscano Mi sono ritardo male Merda Merda Ma sapete che Quella cosa lì Merda Ma baffanculo Ma perché Quella cosa lì Tipo La Kenshire Non me l'ha più fatta Il QTE Che strano Cavolo Sì ma c'è una seconda fase Dopo c'è anche la terza No Non ho la bestemmia facile Io però No Non ho mai bestemmiato Su Youtube O su Pitch Alla Simon dice Anche io Curioso Eppure Perché è venuto Non è più venuto fuori Non lo so Cazzo Ok ragazzi Facciamo così Va bene Va bene Perfetto Dai Tante smine De merda No Porcaccia La miseria Lollipop Via Ma porca Tosorella Va bene Dai Qua non si vede neanche la linea Lì dietro Perfetto Mamma mia Mamma mia Mamma mia Sì vabbè 40 minuti per caricare Brava Giulietto Brava Io non so cosa fare Con i fantasmini stupidi E' quello il problema Cioè quando me li trovo Tutti qua Cosa faccio Provo ad ucciderli E adesso ci andiamo in faccia Dico io Non so Spererei Solo due fasi Ma dubito Purtroppo No Ha funzionato Due fasi sole Aveva Incredibile Ma vero Ce l'abbiamo fatta Posso lanciare l'Xbox Fuori dalle finestre Adesso Incredibile Ho No No Hey You promised you'd give her back if we won You just did what I said I'm a mother freaky zombie Fa un chiulo Destruy them all Ma con l'autotune Nel frattempo Va bene dai Vabbè Vabbè Mamma mia Mamma mia Basta 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 Questo livello sarebbe durato Sarebbe dovuto Durare 30 minuti 40 minuti Sono arrivato a 1 ora e 20 Va bene dai Perfetto Hai ottenuto degli MP3 Per aver completato il capitolo 4 E vai Puoi scegliere capitolo 4 In modalità classifica Cosa abbiamo qua adesso da fare La cathedral Wow Wow Secondo me non manca tanto Sapete Secondo me dopo andiamo lì al centro O forse là in alto a sinistra Va bene dai Con il pad senza tasto Ti piace proprio fartela difficile Eh vabbè Sì Lasciamo stare Va che è meglio Lasciamo stare Bene ragazzi Io vi ringrazio Anzi no Ciao Grazie a tutti.